musica manca 20 km Valcava vabbè andiamo su se riusciamo a beccare il sole prima che scenda ma non credo dai che voglio vedermi il tramonto da là che è una ficcata eh cos'è che ce la facciamo eh oddio ma dice che manca 27 minuti come 27 minuti? eh così dice bella però questa strada si a parte l'asfalto in qualche punto mi ha sorpassato in salito cosa? mi ha sorpassato Matteo guidare con il tramonto è fico guarda che bello si quando stiamo facendo una corsa contro il tempo contro madre natura vogliamo andare a vedere Valcava al tramonto ma boh non so se ce la facciamo che bagarre ragazzi mica la strada migliore della giornata dai ci siamo quasi 10 e 19 minuti mi sembrano mi sembrano un po' eccessivi ci sei patata? si si la c***o ora qua bene fans siamo arrivati all'inizio della salita di Valcava speriamo di arrivarsi in tempo per vedere il tramonto anche se mi sa che il sole è già andato oh c***o oh c***o cos'è successo? boh boh bene fans anche questo giro in teoria breve è terminato abbiamo preso un sacco di freddo però eravamo vestiti astrati tipo cipolla quindi abbiamo resistito il nostro amico Matteo ci ha salutato boh a uno svincolo quando noi abbiamo girato per Monza e speriamo che sia arrivato a casa anche lui speriamo che non sia single da stasera grazie a tutti Grazie a tutti.